Forse sarà per le tante discussioni che ha creato quella partita di Doha, quella della Supercoppa fra Juventus e Milan con la vittoria del Milan. Forse sarà anche per quello, forse sarà perché adesso nel tabellone sono rimaste quasi tutte squadre di Serie A e ci sono fatte per il Cesena. Ora, visto che lo Spezia è stato eliminato dal Napoli per quel che riguarda il tabellone di Coppa Italia, sarà per uno o per l'altra ragione. Sta di fatto che sono veramente molto contento di cosa? Di aver visto partite vere. Juventus-Atalanta, la Fiorentina contro il Chievo, lo stesso Napoli contro lo Spezia. Insomma, pare che finalmente anche in Italia le squadre comincino ad apprezzare la Coppa Italia e non solo per quel che riguarda la finale, quando l'interesse diventa massimo e solo in quel momento. Abbiamo visto spesso squadre che giocavano con tutte riserve. Anche questa sera le formazioni tra Milena e Torino sono annunciate con quasi tutti i titolari. È buon segno davvero, perché la Coppa Italia è un evento importante e l'Italia purtroppo spesso la snobbava.